Le nostre tradizioni religiose sono una fonte necessaria di ispirazione per promuovere una cultura di incontro tra le diverse feti, basato sulla promozione di un dialogo sincero e rispettoso. Con queste parole, Papa Francesco si è rivolto in spagnolo ai partecipanti al primo incontro America in Dialogo, il simposio organizzato a Roma dall'Istituto del Dialogo Interreligioso di Buenos Aires, in collaborazione con la Santa Sede e con l'Organizzazione degli Stati americani. Se non c'è rispetto reciproco non ci sarà nessun dialogo interreligioso, ha proseguito il pontefice, ricordando che ogni incontro con l'altro è un piccolo seme che va curato con rispetto e verità affinché si uniscano ambizioni e forze in un progetto comune, come quello della lotta ai flagelli del mondo, dalle guerre alla miseria alla violenza, dalla corruzione alla crisi della famiglia. Inoltre, ha concluso il Papa, notiamo con dolore che a volte il nome della religione è usato per commettere atrocità come il terrorismo, seminare la paura e la violenza per disgregare la convivenza civile, azioni degli uomini che tutti dobbiamo condannare, condividendo dolore e speranza e camminando insieme.